Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 5 porte, anno di matricolazione novembre 2006, vettura di colore nero metallizzato, con fari fendinebbia, ruote con cerchi in lega, sedili in pelle beige, climatizzatore bizona, cruise control, comandi radio al volante, lettore cd, abs, asr e airbag. Costo 10.500 euro. In vendita presso Coar Village, via Stornelli 10 o via Toscana, telefono 0763 302105.